ciao ragazzi ciao ragazzi vi piace il mio outfit di oggi così molto molto così molto easy con le catene per andare fa la spesa si infatti non mi piace è troppo hard mi si vedono troppo le tette pazienza allora ragazzi oggi parliamo di una cosa che ci ci viene chiesta da quando praticamente da sempre da sempre alberto come mai non otteniamo risultati in palestra come mai non si ottengono i risultati non lo fa e non lo so perché sai che la gente pretende che dopo due settimane di avere il miracolo ma però purtroppo non è purtroppo non è così i motivi sono tanti per cui non non si raggiungono non si migliorano non siamo i risultati possiamo cominciare con quasi bene elenchiamo un po quelli che secondo noi sono quelli che fondamentalmente creano di più il problema no i veri motivi per i quali voi non riuscite a ottenere un risultato in palestra decente perché poi magari i risultati arrivano ma non sono soddisfacenti non sono quelli che voi vi aspettate le magari le aspettative sono diverse voi non ottenete quello che vuole esatto ma però le motivazioni sono tante motivazioni vai parti ma io direi dipende innanzitutto per quale motivo si va in palestra perché allora se la per palestra per numero uno si va per socializzare un altro discorso si va in palestra si socializza però non si vogliono tenere risultati lì ci può anche stare sì che io dico al giorno d'oggi con quello che vediamo in giro che la gente vive attaccata al telefono auricolari telefono c'è siete schermati dal mondo signo controllo microfono ok perfetto si si accede siete schermati dal mondo già vivete dentro al telefono dentro il computer anche quando siete nel mondo di isolate allora io dico se vi isolate che vi tappate le orecchie senza musica per essere dentro di voi e farvi fatti vostri ed evitare che gli altri che può stare distragano va benissimo ma io farei una cosa invece quando si entra in palestra bisognerebbe lasciarlo il telefono cellulare direttamente nella spogliatoio e se poi vabbè una delle problematiche tipo non so che ci lavora col medico sei irreperibile ok ma il 90 per cento della gente che va in palestra il telefono lo usa per perdere tempo e per non concentrarsi su quello che sta facendo perché io non posso fare una serie avere già il telefono in mano no perché quello allora quindi se si va in palestra per allenarsi è un conto per socializzare è un altro sono consapevoli penso che è esatto però se uno va per socializzare tanto quanto ma ben per lui c'è anche un luogo di socializzazione la certo basta che però poi non si pretenda e non vi dovete lamentare c'è va in palestra così come puoi andare a fare un aperitivo al bar è un luogo ricreativo esatto ludico però non si deve pretendere ovviamente senza pretese di risultato ok questo è uno dei motivi poi altri motivi ce ne sono ce ne sono diversi allora un altro è ovviamente molti dicono perché mio personal trainer e non è in grado di farmi raggiungere risultati ed è incompetente ma qui ci sarebbe da aprire un discorso sono sei mesi che mi alleno ma non ho risultati perché è perché il mio trainer non è stato in grado di allora bisogna capire se la colpa è tutta sua esatto sì perché non è detto che la colpa sia solo esclusivamente sua perché se magari il tuo trainer ti dice quello che devi fare poi tu fai quello che vuoi è un altro paio di mani e c'è la colpa un po come nelle coppie ragazzi no c'è la colpa non è mai lui o lei mi tradisce quindi lui e lei no è alla colpa allora è questa cosa io non ho risultati colpa del trainer ma allora è vero che purtroppo nelle palestre c'è tanta incompetenza ci sono tanti trainer che arrivano e hanno un background che non è sufficiente per poter insegnare cioè non è sufficiente avere una laurea di scienze motori ragazzi uscire dall'università e insegnare agli altri non basta ma è anche vero che tu atleta cliente quello che sei devi stare alle regole e le regole in questo sport sono quelle sono fondamentali e non è solo l'allenamento perché la parte l'unica è l'allenamento tutti tutti qualcuno è capace di stare in palestra facendo l'allenamento corretto qualcuno ma quasi nessuno è capace poi di andare a casa chiudere la box serrare le falci perché una colpa è anche l'alimentazione io ho fatto un'ora di palestra e quindi vado a casa e mi sfondo di lasagne tanto ho consumato calorie sia bruciato 100 calorie te ne mangi 500 però ci può essere anche il personal trainer che non è sufficientemente competente e magari ti fa fare un allenamento che non è adeguato certo perché ovviamente non non ha conoscenza non ha esperienza eccetera eccetera e magari ti fa lavorare senza riuscire a a farti ottenere quello che ti sei prefissato ci può stare e ce ne sono tanti ci sono tanti anche plurilaureati che non hanno l'idea l'idea di come si imposta tra virgolette un allenamento un'alimentazione corretta mi spiegano come si come si mangia ci sono tante cose se questo avviene anche in altri in altri campi sì sì bene il nostro è abbastanza ecclatante io quello che vedo che vedi anche tu nelle palestre è la questa ricerca ragazzi della spettacolarizzazione degli esercizi allora io mi scrivo in palestra a una sala pesi di diecimila metri quadrati e sto in un angolo della palestra col cliente su una palla e un elastico a testa in giù con una gamba sopra una sotto con una mano sotto e una sopra con l'elastico che mi tira da una parte e io che cado dall'altra cioè ragazzi per avere risultati non c'è bisogno di inventarsi niente le basi insegnate alla gente le basi gli attrezzi sono fatti per essere usati gli elastici sono un complemento all'attrezza però ci sono ci potrebbe essere ci sono anche dei clienti che non vogliono utilizzare gli attrezzi perché a me mi sono capitati ma io gli attrezzi non li voglio usare voglio usare tutti i vari attrezzini di elastici però bisogna variare non è che può stare un'ora sulla palla ma infatti bisogna essere sinceri allora quando si ha il cliente si fa l'analisi iniziale gli si dice allora se vuoi ottenere tot risultati e certi risultati bisogna fare così 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 è inutile che gli giriamo intorno per tenerci il cliente lo prendiamo solo per il culo perché poi alla fine non gli fate ottenere niente questo si lamenta e perdete comunque siate sinceri allora se non siete in grado di fare un lavoro siete sinceri e non fate casino ma certo se io non sono in grado di fare un se una persona ti chiede una cosa che sai che non va bene spiegagli il motivo per il quale quella cosa non poi lo insista a farla farla ma intanto io ti ho detto che non funziona come un'alimentazione se tu dai un consiglio no su come dovresti più o meno impostare un'alimentazione sana e corretta e tu fai tutt'altro amore mio io ti ho detto quello che devi fare ma se tu fai l'esatto opposto la colpa poi non è mia certo giusto ovvio che se tu vuoi dimagrire e vuoi mangiare tutti i giorni le lasagne al forno o la peperonata cioè io posso allenarmi però non mi toglierla brioche e cappuccino alla mattina l'allenamento perché se gli dici allora io voglio dimagrire per dire però voglio fare una serie di non so di panca e basta cioè però non voglio fare fatti però non voglio fare fatica io voglio migliorare esempio stupido però a me non piace fare fatica e allora tesoro non venire come esempio non venire in palestra perché in palestra per migliorare bisogna farsi il culo appunto e guardate che non ci sono scorciatoie e non venite e non ricominciate con la storia degli aiutini delle bombe dei cazzi dei mazzi perché noi parliamo di gente normale gente normalissima non so che si vuole mettere in forma infatti basta ok non c'è bisogno dieta allenamento sono le due componenti fondamentali e poi ce n'è una ancora più importante raggiungere direi direi la passione ma sì è ovvio che la passione il mio braccialetto ma non è che tutti i giorni tutte le persone vengono in palestra solo e sono appassionate magari sono persone che provano perché non certo non hanno mai fatto e allora dicono magari perché vogliono comunque un risultato si approcciano alla palestra con la speranza di avere un risultato ma la palestra li fa cagare cioè ce ne sono tante di persone la palestra diventa un violentarsi no io quello e anche lui lo dice cioè deve venire da dentro ragazzi la voglia di fare un po' di sacrificio e soprattutto di cambiare un po' la nostra strada io faccio una cosa perché voglio farla perché mi piace farla no perché sono obbligato perché qualcuno mi ha detto no fai assolutamente perché la moglie mi vede grasso e allora devo andare in palestra però io voglio andare a giocare a calcetto perché mi diverto di più vai a giocare a calcetto sicuramente più risultati e sei più sereno infatti e chiudi la bocca magari no questo per dire che purtroppo il risultato è una componente di tanti fattori l'incostanza l'incostanza anche l'incostanza il fatto di allenarsi due settimane oppure pretendere in un mese di avere risultati che si possono avere solo in sei un anno e anche diversi anni perché non è che dall'oggi al domani ovviamente si cambia sembra così semplice per alcuni o per quello che vi dicono o quello che vedete nei vari social ma non è così cioè io mi stocchi alberto sono così ma non ci sono diventato in un anno ci sono diventato in una vita anche io barbara rimanere così la barbara non è che non si allena è diventata così è rimasta così si allena tutti i giorni e sta a dieta tutti i giorni segue un'alimentazione corretta e non mangia ieri sera siamo usciti a cena lui se lo può permettere quindi lo fa e fa bene a farlo esattamente un metabolismo completamente diverso si è mangiato la sua pizza si è mangiato il suo cheesecake quello un piccione di ricotta è specifico io che io facevo il video io facevo il video lo vedrete lo pubblicheremo forse non lo so e non lo pubblicheremo e io qualcosa ho mangiato il galletto il pollo va benissimo buonissimo tra l'altro eh vabbè ma tu esce e mangi ancora il pollo si ancora il pollo perché io sto uscendo a cena per la compagnia no per il cibo che devo mangiare esatto lui che sa che lo può fare gli fa bene fa bene a farlo io che so che non lo posso fare perché se mangio quello che mangio non lo digerisco sto male il giorno dopo c'è piena d'acqua mi devo fare le menate evito di farmi le menate mi mangio il mio pollo che mi piace tanto e siamo tutti contenti infatti che cosa cambia hai cambiato qualcosa sei stata male perché non hai mangiato la pizza per niente cioè hai detto fregata niente che sfiga non ho mangiato la pizza che sfiga se volevo mangiarla l'avrei mangiare sono scelte è importantissimo dire sono scelte scelte di vita quindi l'incostanza io direi incostanza e fretta sono due cose che vanno la pretesa di avere risultati magari in due settimane quando ci vogliono più mesi e non anni e se non anni e poi il fatto in costanza vuol dire fare tre settimane di allenamento poi tre settimane non venire tre settimane di allenamento elastico esatto diventa disturbante anche per il fisico perché il famoso io io esatto effetto io io famoso io io delle di tutte le diete che fate perché le fate per dieci giorni e poi ritornate nel limbo nel delirio totale a livello alimentare che il problema più grosso bisogna essere convinti per cui perché si va perché si socializza allora esatto perché l'incompetenza number one l'incompetenza che può essere però anche l'incompetenza del cliente che non capisce quello che deve fare esatto ambedue diciamo il 50 per cento 55 e 51 l'incompetenza del professionista l'altro il cliente che non fa il suo dovere esatto due la lo io io famoso io io sì l'incostanza in costanza la fretta in costanza freta cioè ok essere altalinanti praticamente certo essere altalinanti andare in palestra per socializzare un altro obiettivo rispetto a quello di avere un obiettivo sul proprio fisico cioè quello di conoscere tizio caio sempronio mi va benissimo però e poi ovviamente il risultato ritorno all'incompetenza ma l'incompetenza non è data solamente e anche dal tipo di allenamento che magari fa parte sempre dell'incompetenza che il personal trainer ovviamente vi vi imposta l'incompetenza e incompetenza alimentare e allenamento in termini di allenamento l'incompetenza nel programmare il lavoro che avete bisogno di fare questi sono i tre motivi principali io ne direi un altro che è scontato ma che non è scontato cioè la gente va in palestra e non si fa aiutare cioè voi pretendete allora io vado a sciare e prendo il maestro perché sennò mi ammazzo sulle piste ci sono quelli che non lo prendono vado a giocare a tennis sempre il maestro mi insegna giocare a tennis vado in palestra e tanto ci sono gli attrezzi così ci vuole e ci vuole che li fatti al contrario gente io ma noi vediamo tutte le cose che non possiamo filmare per la privacy ma ci sono delle cose fatte delle cose che i guardabili e dici e meno male che sei su un attrezzo perché se eri con un peso libero eri già morto ma si ma non c'è si inventano di tutto quindi non sapete cosa fare ma non vi fate aiutare soprattutto quindi io so fare tutto da solo perché perché ho guardato il tutorial su questo è un altro problema perché ci sono un sacco di persone che arrivano col telefonino se i vari tutorial e si mettono lì e fanno l'allenamento non sanno neanche per quale motivo fanno quel tipo di allenamento perché questo gli ha detto di fare così ma io vedo delle cose a volte io ho visto un giorno una ragazza io ho fatto in tempo a fare un'ora di lezione che è stata un'ora su uno stacco da terra ma senza neanche alzare i pesi c'è una ragazza che era prima di fare lo stacco da terra doveva imparare perlomeno doveva andare su qualche attrezzino perché così magari era guidato imparava fare movimenti di movimenti di base questo ha fatto un'ora ma io dico ma quel personal trainer quel coach o chi cazzo è scusate il termine ma che gli dice di stare tutta un'ora a fare lo stacco da terra c'è ci sono dei problemi magari l'ha fatto lei perché ha visto il tutto magari visto il tutorial che ha fatto lo stato per lei doveva farlo stacco di un ora cioè ci sono delle incongruenze ragazzi grosse io posso accettare che qualcuno guardi il tutorial se del proprio trainer del proprio coach io ti farà il tutorial trainer te lo do a tutto lo guardi questo funziona io lo faccio con tanti clienti dico guarda se hai un dubbio sull'esecuzione di un esercizio tu fallo male e fammi il video io ti correggo facendoti il video dell'esercizio fatto nel modo corretto quando si lavora a distanza purtroppo non si può fare altrimenti no e così ci sta ma no che guardate tizio caio che non sapete neanche perché fa quell'esercizio in quel modo in che ambito lo sta facendo qual è la sua routine come mangia quanti anni ha cosa ha fatto cioè non funziona quello che funziona per te non funziona per me esatto però parliamo di esperienze personali di clienti che non hanno avuto risultati che tu hai avuto se hai avuto anche questo io ho avuto anche per clienti che hanno avuto risultati ovvio che siamo che mi arrivavano in palestra e mi dicevano alberto ho rimesso faccio esempi che va bene non c'entrano niente con le persone che seguono attualmente ci tengo a precisarlo allora ci sono persone che arrivavano magari andavano via una settimana in una settimana mi tornavano e avevano messo su 5 kg 10 kg ma non sto scherzando 10 kg c'è dalla sera alla mattina hanno cominciato a non allenarsi più e mangiare come disgraziato magari un anno di sacrifici veramente in quelle in quella settimana li hanno rovinato tutto il lavoro di un altro poi hai voglia rimetterti dietro a fare le stesse cose cioè pensando che magari non mangiando più in una settimana riperdi tutto ma non è vero non è assolutamente si perde ma per anche i muscoli che i guadagnati non hanno c'era in catabolismo c'è credi danni abbastanza pesanti che poi non ti riportano in forma ma questo succede solo per un motivo per quello che abbiamo detto prima non c'è la passione ragazzi non è uno stile di vita allora quello che noi cerchiamo di insegnare alle persone è di cambiare la propria vita in meglio ma non significa di cambiarla per un mese e poi tornare alle cattive abitudini la vita c'è per stare in forma bisogna concentrarsi sempre tutti i giorni tutti i giorni della tua vita finché non vai sotto terra più andiamo in là con gli anni e più questa cosa va seguita perché se io mi alleno per un anno e basta una settimana di vacanza per rovinarmi vuol dire che non fa parte del mio stile di vita che quello che ho fatto per un anno è stata una forza pura e quindi come mollo ritorno alle cattive abitudini peggio di prima perché poi diventa in crisi bulim c'era quando anche insieme col cervello e dopo non è più mangiare ma è se abbuffa c'è solo per appagare il proprio e il proprio istinto animali si si non siamo animali ragazzi o meglio siamo animali un più ma col cervello o qualcuno un po più sviluppato se cerchiamo di ragionare cioè se è una cosa che va contro voi stessi ma ragazzi non lo continuiamo a dire la vita è difficile già quando le cose vanno ma scegliete un'altra cosa nessuno vi obbliga a fare i bodybuilder a essere in forma avere gli addominali tirati avere le vene sulle gambe sono scelte personali se lo fate dovete fare perché vi piace io quello che faccio lo faccio perché mi piace io non è che sto sto in forma a questa età perché mi piace essere come sono e perché ti piace far fatica quando ti almeno a certo io quando vado in palestra allora piuttosto non mi alleno se devo andare in palestra e allenarmi alla cavolo di cane cioè io prendo me ne vado a casa perché per me è un è un allenamento sprecato si è un non senso è un senso no cioè io vado in palestra e non mi sembra di non allenarmi cioè oppure devo andare e chiacchierare eccetera eccetera ma no beh ecco un altro motivo per cui non hanno risultati potrebbe essere il non scegliere il momento giusto per allenarsi mi alleno alle sei di sera non sono mai entrato in palestra shock oddio che cosa faccio oddio tutta sta gente oddio tutti mi guardano allora ragazzi siamo nel 2020 ormai non dico tutte ma molte palestre sono aperte h24 basta muovere il culo dal letto e alzarsi un'ora prima andata la mattina presto fate dell'allenamento la prima cosa della vostra giornata ma ci sono persone che per alzarsi cinque minuti prima per loro è una fatica bestiale piuttosto rinunciano allora e allora non vi lamentate c'è gente che non fa colazione perché diciamo mi alzo tardi non riesco a far colazione mi alzo tardi non esiste mi alzo tardi non esiste non ho tempo il tempo si trova ma se la trova chiunque il tempo il tempo per noi stessi lo dobbiamo trovare magari per gli altri no ma per noi dobbiamo trovarlo a me non ha mai spaventato il fatto di alzarmi alle 3 della mattina perché mi devo andare a allenare perché poi alle 6 avevo da fare e quindi metto la sveglia mi alzo punto ma non è un problema ragazzi dormiremo e raggiungeremo la pace terra quando saremo morti cerchiamo di essere belli attivi tanto guardate c'è anche se alzate il culo dal letto un'ora prima poi tanto lo rimettete sulla macchina sulla sedia dell'ufficio sulla poltrona siete sempre seduti quindi state sereni che non vi stancate più tanto ok e oggi con la vita moderna a meno che non fai il boscaiolo passiamo da una parte all'altra non fa il muratore i lavori manuali ormai quindi muoviamo muoviamo ci sia un altro motivo è quello che comunque al di là di tutti tutto ciò cioè se non ci mettete un po di volontà e un po di voglia di migliorare non non andate da nessuna parte no 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 mamma come tutte le cose ma poi una cosa che fa girare un po le scatole fate che poi molti si lamentano perché non hanno i risultati arrivano da te ti dicono ma io quest'anno non ho avuto risultati poi dopo vai analizzare il tutto mi chiedevi prima se ho avuto clienti sia che io ho certo che ho avuto clienti che non erano subito al di là che ho avuto clienti che hanno avuto dei risultati della madonna e che poi hanno ovviamente lo stallo perché non è che poi ragazzi c'è arrivati a un certo stato di forma ci si ferma e chiunque a livello fisiologico raggiunge il proprio stato e non è che posso ok ma sono sempre uguale adesso non miglioro più hanno adesso di qua c'è l'insoddisfazione perenne allora va bene la ricerca della perfezione vogliersi migliorare ma l'insoddisfazione è una cosa negativa e diventate negativi anche col vostro pensiero e quindi questo si riflette sul vostro fisico ma allora visto che parli in questa maniera io direi che ci sono delle persone che parlano non capiscono come ci si allena questo vabbè dovrebbe farlo e dovrebbe spiegarvelo in personal time se voi fate tre serie da dieci tutta la vita di apertura laterale cioè ma se tutte le volte allora non cercate di migliorare un po e vi fossilizzate a fare tre serie da dieci con ma di cui non ce la faccio è ma di più non ce la faccio ma dovete anche dare quella quell input oppure dare uno stimolo in più al corpo cercando di migliorare aumentando un attimo il calcio c'è gente che allora va in palestra quando vedi che si allena non fa un minimo di fatica cioè io mi alleno tutte le volte non sono sudato sono morto non riescono anche a parlare quando finisco la serie gli altri invece prendono parlano discutono addirittura discutono mentre si stanno allenando mentre fanno gli esercizi di squat allora ieri l'altro ieri ho visto una ragazza giuro che stava facendo la lat machine lat machine gli auricolari parlava telefono ma tu mi dici cosa ma tu mi dici cosa scusa ma cosa cazzo stai facendo ma ti rendi conto che ti stai spaccando la schiena ragazzi siete in palestra con dei pesi non scherziamo poi non date la colpa al trainer perché vi siete fatti male perché siete stupidi voi vi fate male in palestra si va con la testa concentrata un'ora al giorno vogliamo dedicare il nostro cervello a stare un attimo tranquillo fuori dai social ea concentrarsi su se stessi ora al giorno un'ora due tre volte alla settimana mica neanche tutti i giorni perché tutti i giorni è troppo quando vi allenate allenate poi quando avete finito di allenare vi sedete vi mettete a parlare discutere ma tu non fa o se no mi suona il telefono mi fermo e risporto ma non riesco io guardavo dicevo questa fa faceva la serie che ho visto gente col telefonino che fai bici decidi così poi poi condanna alle così o gli addominali al telefono ragazzi no ragazzi al nuovo metodo di allenamento no ragazzi no al di là che non avete risultati sono cose che non rischiate a rinconcettibili cioè dovete lavorare in sicurezza così rischiate anche di farvi del male se non avete tempo non avete voglia state fare qualcosa nessuno vi obbliga no quindi direi che sì io più di una ma a livello alimentare lo scoglio più grosso è quello alimentare ma io non ho messo su due chili invece di scendere i pesi ho messo su due chili e cosa hai mangiato niente tesoro se hai messo su due chili qualcosa avrei mangiato a pensarci con l'aria ieri ieri ad esempio sono stata bravissima cosa ma è una cosa che è successa ormai quasi venti anni fa ma me la ricordo ancora come se fosse oggi sono stata bravissima perché allora tu hai una colazione uno spuntino un pranzo uno spuntino una cena allora colazione non l'ho fatta e lo spuntino non poi non c'evovo non avevo tempo poi stavo lavorando mi sono dimenticata poi a pranzo ho mangiato un insalato e poi lo spuntino del pomeriggio non c'avevo fame poi poi quando sono arrivata la casa la sera e cosa si è mangiata vabbè ho mangiato un po di nutella vabbè c'era un maratone di nutella ho mangiato tutto ma ho mangiato solo quello ragazzi c'è così fate morire i vostri tre cerco al di là che morite voi perché ok un po eccessivo ragazzi non sono cose che ho messo su dei chili non so perché il corpo risponde sempre alle cose che voi gli fate o gli date non è che dimagrite o mettete peso a casa l'alimentazione importantissima guarda io potrei raccontarvi una cosa che è successa a me allora in passato perché è successo anche a me perché non ho seguito quello che mi diceva perché sono voluto fare di testa mia mi ricordo che erano vabbè forse più di vent'anni fa ero già un atleta io e avevo finito gli aminoacidi liberi e una volta si chiamavano amino acidi liberi e proteine idrolizzate erano i capsulotti che si utilizzavano buoni esatto si potevano anche comprare masticabili buonissimi allora non ne avevo presi più non ne avevo comprati e praticamente invece di utilizzare quelli ho cominciato a mangiare scatolette di tonno ma non è ma io avevo tre spuntini al giorno in quei tre spuntini al giorno mi mangiavo la scatoletta di tonno stessa cosa piena di sale la settimana la stessa settimana e sabato sono andati in un paese abbastanza lontano a fare un'esibizione quando sono salito sul palco il mio coach dei tempi mi ha guardato mi ha detto ma alberto ma che cazzo è combinato mi fa se settimana scorsa eri in forma e detto ma no ma io niente ho fatto le cose come dovevo fare ma figurati ma non ho fatto niente dimmi la verità ma che cosa hai cambiato demora della favola mi è venuto in mente non è che non mi è venuto in mente che non glielo volevo dire sinceramente e allora alla fine gli ho detto quello che fa per forza ti si è riempito d'acqua in cari di sale in cari di sale ti sei mangiato che mangiavi senza sale e la tua condizione in questo momento è questa per cui allora è colpa tua non perché è colpa mia perché sono stato io che ho sbagliato per cui è matematica matematica il nostro corpo ragiona bene la nostra testa no quindi usate il cervello e il vostro corpo seguirà esattamente quello che gli dite di fare ma se voi siete bugiardi che poi io dico ascolta sei tu che paghi sei tu che devi mettere l'impegno e racconti le pavano e conti le palle a te stesso ragazzi a me non me ne frega niente se tu c'hai la panza o il culo molle sinceramente mi hai già pagato cacchi tuoi no infatti al di là che mi girano le palle perché io quando un cliente che ha un cattivo risultato la tua faccia e la mia ragazza io ho spedito a casa più di un cliente perché non faceva quello che doveva perché la tua bella faccina va in giro con la mia ea me fare figure di merda perché tu non esegui gli ordini e mi stampa su non sia come è successo quindi facciamo una bella cosa io ho più di un cliente lento guarda facciamo una cosa chiudiamola qua perché si vede che una postata grazie arrivederci è inutile andare avanti andare avanti male fatto anch'io sago di volte e poi mi dicono ma no ma come no ma come allora le cose fatte bene o se no grazie arrivederci io gli dicevo al direttore detto risparmi i tuoi soldi gli ho detto così che risparmi i tuoi soldi investili in qualcosa che ti fa più sereno che ti diverte di più un'ora di telefonino questo qua stava un'ora al telefono un'ora non c'era verso di ok e gli ho detto ma prendi buttalo via a volte glielo requisivo il telefonino ti ricordi ne avevo una se faceva così una cosa pazzesca io ho una cliente bellissima ragazza bellissima ragazza tra l'altro con un potenziale della madonna perché io avevo poi scoperto come farla allenare perché dopo un po di tempo si diventa furbi no allora siccome l'era una molto esperienza in questa molto social no foto su instagram video pipa e allora io quando lei cominciava che ogni ogni due secondi c'era una chiamata e scusa barbi scusa barbi scusa era passata un'ora scusa barbi barbi ti fa il video a cazzo aspetta le mettevo su 200 kg li sollevava perché per il video stava in silenzio e io avevo trovato il modo non dico il nome cicciolina oggi facciamo il video ok un allenamento della madonna e quindi dici cazzo il potenziale hai tutto quello che ti serve perché sei bella se intelligente e che perché butti via l'ora che abbiamo insieme questa telefono no io non te la faccio buttare infatti questa è una furbizia del trainer se non ci sono tanti che riescono a fare queste cose a capire come farla legna conoscere che essi da lavorare la psicologia e lavori sulla psicologia anche a me alcuni gli dicono ma cosa stai usando ma io faccio di più ma donna non ce la fai se ti metto su più pesi sia questo per orgoglio certo come non ce la faccio metti su più peso ai ragazzi soprattutto quando mi dicono ma forse for non so se riesco a sollevare di più no tanto non ce la fai madonna subito e proviamo si prova però tanto secondo me non riesci e come dici non riesci cazzo la leva fai leva sulla sulla testa e bisogna bello psicologico conoscere un po la psicologia dei clienti che si hanno ma è tutto fattibile però questo ragazzi per dirvi che noi ci impegniamo a conoscervi a trovare l'escamotage per farvi dare il massimo ma poi quelle che devono dare il massimo se ti vuoi certo noi ci mettiamo il 50% noi ci diamo anche 70 per cento noi due gli altri ce ne mettono il 20 noi che con la passione che abbiamo quando seguiamo qualcuno lo facciamo per avere il risultato certo ma lo vedi perché lo trasmettiamo sinceramente è una cosa che molti clienti mi dicono la senti la vedi la percepisci la senti nell'aria la passione di una persona solo quando parla certo e questo è importante anche per il cliente trasmettere quello che sta insegnando che se non riesce a trasmettere tutto ciò anche il cliente dopo un po di si rompe le palle se tu trainer non sei sicuro di te stesso perché stai parlando di una cosa che non conosci ragazzi nessuno effesso c'è dopo due volte la gente vi sgama potete fare copia in colla di tutte le schede della terra ma non funziona così anche un altro errore che fanno molti trener che fanno vedere cose che non sono in grado di fare esatto è importantissimo perché io per come si fa e fanno vedere il video no fammelo vedere a me lo vedete ed è importante è importantissimo perché tu devi essere di esempio per il tuo cliente se io devo farti vedere uno scuota deve essere prima io in grado di farlo fare bene bene e poi tu lo impari da me è ovvio che se tu non sei in grado di farlo già tu come poi insegnare una cosa se permette no 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 permette un certo e non torniamo alle competenze alle competenze oppure fare fa allora io vedevo delle cose ai tempi in una palestra che facevano fare delle cose degli esercizi a dei clienti che neanche loro sapevano fare oppure un'altra cosa che adesso dico vabbè non entro in merito perché non è non è giusto però io adesso entro in merito con un esempio senza fare nomi di palestra di trainer allora noi abbiamo insegnato in una grossa palestra per più di 12 anni certo e diciamo che come anzianità di esperienza eravamo io e lui poi c'erano dei trainer che avevano 25 anni molto giovani ma che la mettevano giudora ragazzi che sembrava che fossero dio sceso dalla dal paradiso e sapevano tutto loro allora io ho un cliente faccio fare un'ora di lezione e faccio fare questo quest'altro quell'altro esercizio loro hanno il cliente dopo di me fanno fare questo quest'altro con l'altro esattamente le stesse cose che facevo fare io faceva fare lui stessi esercizi noi abbiamo sempre proposto degli esercizi innovativi non scenografici che è una cosa diversa e che tanti non sapevano mai mai visto ma è sì ma cos'è quella roba lì lip trust noi due è da vent'anni che lo facciamo c'era gente che quando io facevo il trust col bilanciere mi diceva che ero pazza perché mi faceva male la schiena e dopo però lo facevano fare crete ricordi lo facevano fare i clienti quindi ragazzi il copia incolla non funziona perché io e lui studiamo prima cosa far fare al cliente perché a quel cliente serve quella cosa certo se tu al tuo cliente fai fare la stessa cosa magari io l'ho fatta una donna tu lo fai fare un uomo o viceversa non funziona non funziona così non basta copiare bisogna sapere di che cosa stiamo parlando ma sia anche quando abbiamo fatto noi siamo stati tra i primi a fare il corso di kettlebell tanti anni fa tanti 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 nessuno sapeva cos'erano i kettlebell che vuoi conoscevano le kettlebell chi è del mondo conosceci valeri a poverino pace all'anima sua maurizio cioè noi siamo stati tra i primi a fare queste cose qua quando noi li facevamo in palestra poi ci invitavano addirittura ci dicevano che non potevamo portare i kettlebell in palestra perché erano pericolosi erano regali essi è vero cioè noi avevamo la competenza di farli fare però non potevamo usarli perché diventano pericolosi dopo qualche anno c'erano non c'erano più manubri c'erano solo che però erano pericolosi è ok senza saperli usare c'è gente che fa lo swing fa delle cose che sono ragazzi cioè fanno le alzate frontali cosa esatto col kettlebell e lo insegnano così insegnano cioè io non parlo del cliente che poverino magari guarda il tutorial lo vede non se lo ricorda fatto bene il trainer che insomma il trainer che si fa anche il video e spiega questo e lo swing ragazzi non lo fate perché fate delle figure di palta ma grosse ma grosse ma così grosse che non si possono vedere se non sapete fare una cosa non lo fate non la insegnate ma io ho fatto ho fatto un periodo a fare anche dei corsi dove insegnavo circuit training militari training che è stato uno dei primi che ho fatto io e l'altro cioè cose i primi a fare militari training e c'erano persone che praticamente venivano all'interno e facevano il corso e facevano delle cose innovative ma poi c'è stato anche un altro periodo dove io mi ricordo che c'erano degli istruttori dove c'erano degli allievi delle persone che entravano in palestra e ne sapevano di più dell'istruttore imbarazzante ma perché questi proponevano delle cose che non avevano mai fatto non avevo mai fatto io ho provato a fare un po di tra virgolette di step però lo step basic quello classico che ce l'aveva insegnato giorgio giorgio radici chi lo conosce sa benissimo chi è tra l'altro un bravissimo famosissimo uno dei migliori esisti d'italia e niente lui è praticamente insegnava queste cose qua e poi c'erano alcuni che le riproponevano ma molti di questi che facevano il corso le avevano fatte precedentemente con giorgio ed erano più bravi dell'istruttore per cui non fate delle cose che non siete in grado di fare e abbiate il coraggio di dire di no c'è se a me un cliente viene a dire voglio imparare a fare calesteni non insegni no io non lo conosco per l'amor di dio non te lo insegno non lo so fare come faccio insegnare vai in una scuola che ti insegna a fare calesteni ci sono treni che si pretendono di insegnarlo ugualmente pretendono di dire sempre di sì cioè è un po come il genitore che cerca di dire sempre sia i figli no ragazzi abbiate il coraggio di dire non lo so fate una migliore figura certo non è far brutta figura non è che si possa per far tutto se vi specializzate in un settore e fate quello le vostre competenze sono di quel settore adesso mi è venuto in mente un professionista ea 360 gradi sa fare tutto di tutto ma magari ma magari qualcuno c'è anche i fenomeni no ci sono qualcuno che c'è però abbiate il coraggio di dire questa cosa non lo so fare lasciamo stare ma mi è venuta in mente una cosa io ho fatto tanti anni di arti marziali il sport a combattimento e mi ricordo che io facevo ovviamente lezione ad alcuni ragazzi e ragazze e poi ogni tanto arrivava qualche trainer che faceva le lezioni di box ragazzi non sapeva neanche tirare un pugno cioè era inguardabile cioè i pugni li prendeva in faccia da esatto facciamo delle cose ma solo perché volevano tenersi il cliente perché avevano paura che dicendo di no avrebbero perso il cliente ragazzi il cliente lo perdete lo stesso perché quando non siete capaci di far qualcosa la gente non è stupida lo capisce è più bello sentirsi dire guarda io quella io barbara non ho mai fatto sport da combattimento lezioni di auto di barbara mi fai lezioni di autodifesa io no vai l'alberto che le fa vuoi fare box io non te la so insegnare ma qual è il problema è ma perché si non uscono e capito per loro valore non ti sminuisce di più quando insegna una cosa e non sei capace per cui state attenti perché una delle cose che succede quando non avete risultati anche di andare in mano a queste persone che vi al di là di farvi delle richieste che ragazzi a volte c'è anno anno delle folle perché io ogni tanto sento delle richieste che sono assurde no quindi cercate di stare un po di volare basso e di farvi insegnare le basi le famose basi da quella volta che avete la competenza voi su come si fanno gli esercizi capito un po come funziona il sistema dell'allenamento dei carichi eccetera dopo tutto più facile e potete anche giudicare perché all'inizio uno giustamente lo vede professionista e si fida giustamente poveri di loro cosa c'è mi insegno io ti pago no esatto però se dopo un anno vedete i clienti degli altri trainer che migliorano e voi peggiorate e voi avete però fatto quello che il vostro tenere mani si è importante devono fare quello che il trainer gli dice voi avete seguito la strada ma il risultato non c'è fatemi delle domande non è sufficientemente in grado di aiutarvi ma non è un problema io ripeto sono stata la prima a cacciare a cacciare a fa smettere il rapporto di lavoro con tanti clienti perché perché non funzionava perché non erano sufficientemente motivati ad avere un risultato come io pretendiamo che fosse visto che mi pagavano per quello infatti e sarebbe da fare sempre così però il problema che molti piuttosto che perdere il lavoro perdere il cliente lo tengono ugualmente inventando chissà che cosa poi tanto un po come si perdono lo stesso ma un esempio io ho avuto una mia cliente beh allora questo è un esempio eclatante e anche qua dico stendiamo un velo spietoso perché qui si parla di testa no lei faceva la psicologa e oltre che faceva anche tanto altro un fenomeno di persona laura te la ricordi batterista c'è un certo un personaggio e lei mi diceva io sono delle più poche coglione che cura i pazienti cioè il paziente se da me sta più di un anno io non lo voglio più perché vuol dire che non ha seguito il percorso che io gli ho certo insegnato dice tutti i miei colleghi invece fanno sì che i pazienti non migliorano non guariscano perché sennò perdono il paziente ma questo succede in molti campi ragazzi qui parliamo di salute mentale ok quindi la fiducia ok ma cercate di capire la strada che vi stanno facendo seguire guarire una persona è certo ma ci sono anche non sono anche fisioterapisti ma solo medici che ti bottiscono di medicina e quale invece come un altro esatto mi fa male a testa ok ti do qualunque farmaco ma per me non capisco da dove arriva quel mal di testa perché ho sempre mal di testa magari un tumore al cervello però io continuo a prendere qualcosa che mi intossica il fegato e che mi fa mandare via mal di testa per qualche ora per dire fatto un esempio stupido no però per per andare terra a terra far capire va bene l'incompetenza anche l'ingenuità del cliente all'inizio perché non sa ragazzi dopo un po il risultato è matematico che deve arrivare se non arriva c'è un problema limiti sia ognuno riesce a raggiungere il proprio lì c'è ognuno ha il suo potenziale è ovvio che non tutti possono come diciamo sempre non possono diventare ronicole ma no 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 maradona però è ovvio che possiamo dare 100 per cento di noi stessi facciamo le cose fatte bene se seguiamo tutto quello che il trainer dice ovviamente da un trainer competente e poi ovviamente se siamo un pochettino inquadrati e vogliamo ottenere il risultato nel frattempo voi cliccate like perché questo è un video top cioè like è così la testa la testa bisogna volerlo bisogna volere le cose molti non la vogliono sono convinti di quello che vogliono sì ma la vita così ma perché non vogliono loro perché non lo vogliono loro perché perché gente ci vogliono un po di palle è più facile lamentarsi e stare seduti sulla sedia e guardare gli altri giudicarli piuttosto che alzare il culo farsi il culo e avere dei risultati o cambiare la strada si è io ok vogliono fare voglio risultati però non mi togliere il cappuccino a brioche tesoro allora non comincia neanche percorso perché è un approccio mentale che a me non va bene cioè vuol dire che tu non sei disposto a cambiare le tue cattive abitudini ok c'è non funziona così e non è che c'è la bacchetta magica e se tu mangi lo stesso la brioche cappuccino magicamente perdi la pancia ma magari magari ok le cose così saremmo migliore allora scusate scusate allora noi siamo cretini che stiamo a dieta da vent'anni da 30 anni e scusate cioè ma allora noi siamo proprio dei deficienti no se bastassero gli aiutini come dite voi che bastano gli aiutini per essere in forma ma che siano cretini che continui spacchiamo il culo sette giorni su sette in palestra e stiamo sempre a dieta ma ragazzi ragioniamo ok quindi idee molto chiaro siate chiari con voi stessi prima di tutto informativi da chi state andando perché poi ormai voglio dire visto che siete molto bravi a usare la tastiera online si trova tutto su tutti no quindi se cercate informazioni su un trainer piuttosto che non fidatevi di quelli che mi mettono risultati in brevissimo tempo no perché mi prendono per il culo nel senso che se vi dicono in tre settimane per di 50 kg in quattro settimane metti su 20 kg o quelli che permettono cose che non esistono tipo tipo sulle competenze di qualcuno c'è scritto dimagrimento localizzato assia se fosse il chirurgo il chirurgo di carmi agrimento localizzato cosa vuol dire cioè come fai c'è la famosa idrica che che ti brucia un po di di culo un po di panza ragazzi chi vi dice e io l'ho visto sul quadro di qualcuno oltre a tutto il resto programmi e tu dici ma ma spiegami come fai no l'unico ti ripeto è il chirurgo plastico il chirurgo va a fare la riposuzione allora c'è il dimagrimento localizzato se leggete programmi di dimagrimento localizzato cancellate dalla vostra vita quel trainer cioè ma sì ma infatti ok direi che abbiamo riassunto si è un po di ci sarebbe da parlare i giorni noi parleremo per dieci anni si dobbiamo fermarci ogni caso dicono che facciamo i video troppo lunghi e quindi direi che in sostanza vi abbiamo un po noi vi diciamo tutte queste cose perché con tutta l'esperienza che abbiamo abbiamo tante tante perché noi ci fermiamo qua ma potremmo andare avanti ore e giorni ci sono tanti anedoti e tante cose ci sono successe in 40 più 30 in 70 anni di vita di vita palestra palestra se cui noi poi piace insegnarvi le cose per cui ci ci prolunghiamo un po però poi si lamentano che i video sono lunghi quindi faremo più corti avere ai 50 minuti ci stiamo va bene va bene ragazzi ok quindi speriamo di esservi stati comunque utili nel capire come trovare la strada giusta d'aiuto ed è il motivo ed è il motivo per il quale spesso non liberate esatto ok quindi prima guardatevi dentro analizzate quello che avete fatto i vari prima poi giudicate il lavoro del professionista col quale avete lavorato e dopo di che uno più uno si cambia vita basta ok le ossa grosse non le ossa grossa ci sono qualcuno può avere anche le ossa tantissimi ma le ossa sono sempre ossa il grasso il grasso tesoro attaccato a quelle ossa grosse c'è tanto così di ci fa amore e quindi anche tu con le ossa grosse se chiudi le serie le fauci mettete la zip quelle ossa grosse diventano un po meno grosse perché tutto quello che c'è intorno alle ossa sparisce ma io ho le gambe muscolose non posso fare le gambe forti non posso caricare tanto perché io ho già le gambe muscolose forse sono un po il grasso muscolo e donne non parlo di tesoro donne avete le gambe grosse non di muscolo avete le gambe grasse e allora se aggiungete un po di tono muscolare e state a dieta quella gamba vi diventa la metà non si è grossi perché avete i muscoli se grossi perché senti grassi oppure un po di ritenzione idrica se non fino comunque ma non è grasso ma non è muscolo scusate la ritenzione idrica in proporzione sempre un decimo del grasso che avete quindi prima sistema alimentazione e dopo parliamo di ossa grosse certo che se io ho il bacino largo le spalle strette tesoro lino c'è neanche quando sei dimagrito purtroppo bisogna lavorare sui muscoli sul costruire una forma più armonica anche quello si può fare pensare però lì è la struttura ossea noi non la possiamo cambiare però si possono migliorare magari le spallette si migliorano a livello impressivo siete lo stesso abbiamo fatto un video a guardarlo su dedicato al v shape di come avere un bel per cui non ci sono scuse non esistono scuse forza di volontà e andiamo avanti va bene ragazzi è stato bello iscrivetevi qua noi siamo sempre più forti cioè inutile che ci raccontiamo le palle e terzi e terzo noi andiamo avanti in tre mesi e mezzo abbiamo fatto più di 100 video non so chi li ha fatti in così poco tempo quindi apprezzate anche l'impegno non dico sforzo perché non è sforzo noi lo facciamo con piacere magari ma lì più avanti faremo dei monologhi cioè lei e io si adesso spezziamo un po anche perché sennò diventiamo magari avveremo magari qualche argomento in particolare ogni tanto ne mettiamo qualcuno si parliamo magari in base alle domande che ci fanno pure assolutamente se volete che qualcuno di noi vi parli di qualcosa a scriverci va bene allora iscrivetevi continuate a scrivervi dei like ve l'ho già detto mettete la e così ci aiutate a portare avanti un po di più il il numero di iscritti perché le visual aumentano e cliccate la campanella così ogni volta che non pubblichiamo un video siete pronti e mi fa ridere perché noi abbiamo due iscritti che fanno la gara primo appena appena io pubblico al primo uno l'altro che è primo è primo 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 morire cioè faremo daremo un prezzo la gara a chi arriva prima a fare il commento e quindi faccio siete troppo forte da morire va bene ragazzi vi vogliamo bene è stato bello ciao ciao ciao